In tema di controlli i carabinieri del nucleo antissofisticazioni di Pescara hanno scoperto una pediatra a Città Sant'Angelo che esercita la professione senza Green Pass. È un argomento che sta facendo discutere molte persone sulle pagine social di Reteotto. Ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca. Dunque i nostri amici sui social cosa stanno commentando, cosa dicono? Giuliana un saluto a te, un saluto a tutti gli amici tra i spettatori. Purtroppo quello della pediatra di Città Sant'Angelo non è l'unico caso perché in questi controlli capillari che hanno svolto i carabinieri del NAS guidati dal colonnello Domenico Candella hanno trovato ben 35 operatori sanitari su 50 controllati in Abruzzo, pensate non ancora vaccinati. Sono vari operatori sanitari di diversi settori, anche di ambulatori privati. Queste ore stanno verificando se questi operatori sanitari erano già stati raggiunti dal provvedimento di sospensione da parte dell'ordine professionale di riferimento oppure no. Ha creato evidentemente scalpore il caso di questa pediatra di Città Sant'Angelo che operava priva del Green Pass. Questo è l'elemento che ha un po' attratto la maggiore attenzione dei nostri amici su Facebook. Devo dire che al di là dei soliti commenti fuori le righe, dei soliti soggetti che purtroppo conosciamo, che addirittura parlano di ritorno alla dittatura e altre amenità, c'è comunque grande preoccupazione sotto questo aspetto. Molti parlano di atti irresponsabili da parte di questi medici che sono i primi a dover in qualche modo richiamare a comportamenti certamente più adeguati, soprattutto, parliamo di pediatri, soprattutto in un momento storico come questo dove i bambini, i piccoli, sono particolarmente presi di mira da questo virus. Gigliola, ma prima di salutarti, io segnalerei un'altra notizia che è proprio giunta qualche istante fa, che abbiamo anche inserito sul nostro sito ed è una notizia che farà certamente discutere ed è questa qui, la leggiamo insieme. Il Consiglio di Stato ribalta l'ordinanza del Tarra e Masci, il sindaco di Pescara, annuncia da gennaio l'arrivo dei filobus sull'ex tracciato ferroviario. Come sapete, l'annosa vicenda della filovia sulla strada Parco, nei mesi scorsi c'era stata l'ordinanza del Tarra, l'ordinanza risospensiva del Tarra per l'attivazione del servizio sulla strada Parco, in merito a tante, tantissime incongruenze nei vari progetti e varianti ai progetti vari, sta di fatto che dal Consiglio di Stato arriva invece quest'altra sentenza, non entriamo nel tecnico anche perché ci si capirebbe poco, ma la sostanza qual è? È che il Consiglio di Stato ritiene valida l'ultima variante di progetto e quindi può dare il via al completamento dei lavori sulla strada Parco. Esulta il sindaco di Pescara Carlo Masci che va anche oltre, annunciando da gennaio l'arrivo proprio sulla strada Parco di ben 5 filobus elettrici. Sindaco Masci che ha detto che è una notizia importantissima, soprattutto in un momento in cui Pescara è sempre più congestionata dal traffico con il passaggio quotidiano di oltre 100 mila autovetture. Sta per arrivare tra qualche ora un comunicato stampa del Comitato Strada Parco Bene Comune che ovviamente non può essere d'accordo con questa sentenza del Consiglio di Stato e nel quale comunicato annuncerà le prossime azioni rispetto a un provvedimento che si continua a combattere per il bene non solo dei residenti di quella zona ma per tutta la città. È tutto Gigliola, se non hai domande ti restituisco la linea.